Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per non perdere nuove video. La Turchia e la Siria non riescono ancora ad allontanarsi dalle conseguenze di una serie di terremoti iniziati il 6 febbraio dello scorso anno. La magnitudo massima di 7,8 è stata registrata nella provincia turca di Gaziantep, ma le cose sarebbero potute andare molto peggio. Se gli eventi in Turchia si svolgessero allo stesso modo di quelli avvenuti in Giappone il 3 marzo 2011, quando allo tsunami seguì un forte terremoto. 12 anni fa, terremoti di magnitudo colossale pari a 9,1 crearono un'enorme onda nell'oceano Pacifico. Questo tsunami uccise più di 18.000 persone e causò danni al Giappone per 220 miliardi di dollari. I video realizzati da testimoni oculari delle tragedie sono semplicemente terrificanti. I geofisici prevedono che nel prossimo futuro ci attendono tsunami ancora più potenti. In questo momento dobbiamo essere pronti per i peggiori scenari di disastri imminenti. Pertanto, oggi imparerai come prevenire un mega tsunami. Probabilmente, molti di noi credono che uno tsunami difficilmente possa distruggere una casa da qualche parte nel centro dell'Europa, ma per valutare tutti i rischi, capiamo dove i, soprattutto, perché si formano solitamente le onde assassine. Prima di tutto, dovresti aprire la mappa delle placche tettoniche. La superficie della Terra è costituita da piattaforme su cui si trovano il continente e il fondale marino. Si muovono l'uno rispetto all'altro a una velocità che può raggiungere diversi centimetri all'anno e talvolta questo movimento crea terremoti. Si verificano nelle zone di faglia in cui due placche si allontanano, si muovono l'una verso l'altra o entrambe scivolano orizzontalmente l'una rispetto all'altra. Secondo le statistiche, negli ultimi 100 anni, l80% degli tsunami sono stati causati da terremoti. Nel caso del Giappone, è stata la placca oceanica del Pacifico a spostarsi sotto la placca continentale. Per quanto riguarda la Turchia, questo paese si trova in una delle zone più attive al mondo a rischio sismico. L'area in cui si è verificato il terremoto lo scorso anno si trova all'intersezione di tre placche tettoniche, anatolica, araba e africana. La placca araba si sta spostando verso nord, provocando lo spostamento verso ovest della placca anatolica, su cui si trova la maggior parte della Turchia. Dopo il terremoto che ha colpito la città turca di Iskenderun, il livello del mare ha addirittura cominciato a salire. Molti video mostrano che l'acqua ha lagato le strade. Sebbene sia ben lungi dall'essere una vera e propria alluvione, sembra molto inquietante. Se la forza delle scosse quel giorno fosse stata più forte, la Turchia avrebbe potuto ripetere lo scenario non solo del Giappone del 2011, ma anche del disastro nell'oceano indiano del 2004. Questo terremoto di magnitudo 9,3 è uno dei tre più forti nella storia delle osservazioni. E lo tsunami che ne è seguito è il più mortale della storia umana. Un giorno, un'enorme area lungo le placche indiana e australiana fu semplicemente distrutta. Invece di una forte scossa, il terremoto è durato 10 minuti. Per questo motivo, l'energia delle onde dello tsunami che si sono formate ha superato due volte l'energia totale di tutte le sostanze esplosive utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale messe insieme. E questo include due bombe atomiche. L'altezza massima delle onde registrata quel giorno è stata di 30 metri. Questo è quasi 18 volte superiore a quello della persona statistica media. A causa del fatto che il disastro si è verificato il 26 dicembre, ha catturato non solo gli abitanti della costa, dell'Indonesia, dello Sri Lanka, dell'India Meridionale e della Thailandia, ma anche un gran numero di turisti che hanno deciso di festeggiare il Natale nei paesi caldi. Nel video dei testimoni oculari si possono sentire persone che cantano preghiere in attesa del salvataggio. Questo maga tsunami ha causato la morte di circa 300.000 persone. Anche se il numero esatto dei morti è ancora sconosciuto, perché molte persone furono spazzate via dall'acqua nell'oceano. Pertanto, se i punti rossi attraversano la tua città sulla mappa delle placche tettoniche, indicando la probabilità di un terremoto, il rischio di un mega tsunami è enormemente alto. Le frane sono un'altra causa di tale disastro. Dopo essersi sollevati, possono spostare molta acqua nel mare o nell'oceano, provocando un mega tsunami. Ad esempio, nel 1950, a seguito di un terremoto in Alaska, nel Golfo di Lituania, una massa di ghiaccio e terra precipitò da un'altezza di 900 metri, formando così il più grande mega tsunami mai osservato al mondo. Ha raggiunto un'altezza di 600 metri, che è già 352 volte più alta di una persona. Un simile disastro può raggiungere la tua città se vivi in uno stato degli Stati Uniti. Le frane sono un problema serio negli Apalaki, nelle montagne rocciose e nella catena costiera del Pacifico, nonché in alcune parti delle Hawaii. In una parola, qualsiasi altezza come una montagna non lontana da uno specchio d'acqua, sia esso un oceano o anche un lago, rappresenta già un grosso rischio. Pertanto, è necessario fare riferimento alla mappa fisica del mondo, sulla quale sono indicati diversi tipi di rilievi. Allo stesso tempo, dovresti anche considerare la presenza di vulcani nella tua regione o in quella più vicina. Dopotutto, le eruzioni vulcaniche hanno lo stesso effetto dei terremoti. Ad esempio, l'enorme tsunami seguito all'eruzione del vulcano indonesiano Krakatoa, nel 1883, distrusse un totale di 5.000 navi e uccise 36.000 persone. Ma se la tua città è una solida pianura senza vulcani e montagne, che non si trova all'incrocio delle placche tettoniche, non dovresti rilassarti. Esistono anche una serie di fattori specifici che possono scatenare improvvisamente un mega tsunami. Può essere la caduta di un grande meteorite nell'acqua o addirittura l'esplosione di una bomba nucleare. Si verificherà uno tsunami se la bomba esplode sott'acqua o semplicemente vicino alla riva del mare o all'oceano. L'onda si diffonderà in tutte le direzioni dall'epicentro dell'esplosione e potrà causare gravi danni alle zone costiere. Si scopre che assolutamente nessuno è assicurato. Ora determiniamo le nostre possibilità di sopravvivere allo tsunami. Cominciamo con le opzioni più incredibili e allo stesso tempo più pericolose. Se qualche corpo celeste cade nell'oceano mondiale, molto probabilmente i tentativi di salvarsi saranno vani, perché una storia simile è già accaduta ed è finita molto male per tutti gli esseri viventi sulla Terra. Gli scienziati hanno scoperto che un asteroide colpì il nostro pianeta 66 milioni di anni fa, come indicato dal gigantesco cratere Kiksulub con un diametro di circa 14 chilometri, scoperto nella penisola dello Yucatan. Qualsiasi tsunami contemporaneo documentato impallidisce in confronto a questo evento catastrofico globale, poiché l'impatto in quel momento generò un'onda di 100 metri che era 59 volte più alta di un essere umano, e la potenza dello tsunami non era doppia, né tripla, ma 30 mila volte superiore. Terremoto nell'oceano indiano nel 2004. Molti dinosauri vissuti in quel periodo semplicemente annegarono, ma non è tutto. Durante l'impatto furono rilasciati molti gas e fuligine, che raffreddarono la Terra di 25 gradi ogni decennio. Le piante iniziarono ad appassire e i dinosauri rimasti morirono di fame. Se ciò dovesse accadere di nuovo, anche noi dovremo affrontare l'era glaciale e, infine, l'estinzione dell'uomo come specie. Quindi le possibilità di sopravvivenza, zero. Previsioni non meno terribili si applicano ad un ipotetico tsunami innescato da armi nucleari. Se la sua carica raggiungesse i 200 megatoni, sarebbe in grado di creare un'onda che sarà 294 volte più alta di quella umana, ovvero più dell'onda preistorica che uccise i dinosauri. Ma la cosa peggiore è che i disastri naturali possono essere almeno approssimativamente previsti, ma la pressione di un pulsante da parte del presidente di uno degli stati del club nucleare no. Quindi abbiamo un'altra conseguenza meno ovvia dell'esplosione di una bomba atomica, e la possibilità di sopravvivere a questo tsunami nucleare sarà minima. A prima vista, lo scenario dello sviluppo degli eventi in caso di frana sembra più sicuro, perché ci sono una serie di segnali che ti aiuteranno a prevederne il verificarsi. Prima di tutto, lo capirai dagli alberi, non saranno dritti come al solito, ma ad angolo. Allo stesso modo, i muri degli edifici si afflosceranno e su di essi inizieranno ad apparire delle crepe. Anche i pali crolleranno, spezzando le linee elettriche. Inoltre, prestare attenzione al livello dell'acqua nei pozzi, nei pozzi e negli eventuali serbatoi, anche se a volte anche gli specialisti non possono prevedere conseguenze catastrofiche, come quelle avvenute nel 1963 in Italia. Il 9 ottobre dalla cima del Monte Toc è sceso un surf gigante con un cumulo di terra e sassi. Nel bacino della diga di presa de Vaillont ad una velocità di circa 113 km orari. Dall'impatto dei detriti, un'onda di tsunami con un volume di almeno 50 milioni di metri cubi d'acqua si è sollevata di 91 metri sopra il livello della diga e ha iniziato a spazzare via tutto sul suo cammino. Gli operai che abitavano nelle vicinanze morirono sul colpo, e poi l'onda raggiunse il fiume Piave? E assorbi letteralmente la città di Longarone. È semplicemente scomparso. 2000 dei suoi abitanti morirono. Alla fine, lo tsunami raggiunse San Martino, dove morirono altre centinaia di persone. Dopo il disastro, Mario Pancini, l'ingegnere del progetto della diga, fu citato in tribunale, ma si suicidò prima dell'udienza. Come puoi vedere, la situazione è complicata quando c'è una parte di errore umano, il che significa che le possibilità di sopravvivenza non dipendono sempre al 100% da te. Ma cosa faresti per salvarti da uno tsunami se sentissi un terremoto? Ad esempio, in Giappone accadono abbastanza spesso, perché l'evento del 2011 non è stato l'unico evento tragico nella storia del paese. Nel 1993, un'onda gigantesca innescata da un terremoto sottomarino inondò completamente l'isola di Okushiri. È stato lo tsunami più alto della storia giapponese. L'onda ha raggiunto i 30 metri. E questo è 17 volte e mezzo superiore a quello di una persona. Nonostante il fatto che le autorità locali abbiano cercato di fermare lo tsunami con barriere speciali e abbiano anche annunciato l'evacuazione, l'elemento ha comunque causato la morte di più di 200 persone, quasi tutte residenti in una piccola città. E relativamente di recente, nel 2022, in Giappone si è verificato di nuovo un forte terremoto di magnitudo 7,4, dopo di che un'onda che ha raggiunto i 30 metri ha nuovamente iniziato ad avvicinarsi a Fukushima, ma i giapponesi, addestrati dall'amara esperienza, hanno sviluppato un sistema per la prevenzione precoce dei terremoti e tsunami. Dopo aver ricevuto le letture di 4.235 sismometri installati in tutto il Giappone, le autorità sono riuscite ad avvertire le persone di stare il più lontano possibile dalla costa, salvando la vita di molti residenti. A causa di questo disastro naturale sono morte tre persone, ma questo numero avrebbe potuto essere molto più alto se non fosse stato per il sistema di allarme. In una parola, è difficile anche valutare le proprie possibilità di sopravvivenza durante uno tsunami scatenato da un terremoto. Dopotutto, tali cataclismi possono essere evitati, ma puoi proteggerti da essi. Solo che questo compito spetta in misura maggiore al governo locale, e non si sa quanto responsabilmente tratterà i propri doveri. Il 23 gennaio 2018, a luna e mezza di notte, il sistema di allarme tsunami e terremoti ha avvertito di terremoti sottomarini nel golfo dell'Alaska di magnitudo di circa 7,9. Poiché i terremoti di questa portata provocano solitamente onde enormi, le autorità hanno immediatamente inviato un messaggio agli abitanti della costa dell'Alaska riguardo al disastro imminente. Pochi minuti dopo, le persone spaventate cercavano disperatamente di capire dove scappare, cercando disperatamente le colline più vicine, ma si trattava di un falso allarme. Fortunatamente, i dispositivi erano sbagliati. Attualmente, solo cinque paesi al mondo dispongono di sistemi avanzati di allarme globale per lo tsunami. Questi sono gli Stati Uniti, l'Australia, il CIE, l'India e il già citato Giappone. Ma come puoi vedere, non ci si può fidare di questi sistemi al 100%. Quindi uno di loro si sbagliava pensando che l'Alaska fosse un problema serio. E tutto ha funzionato, ma la tecnologia può anche sfuggire a un vero tsunami. Nell'oceano aperto, le onde si avvicinano con una velocità incredibile. Pertanto, le regioni lontane dalla costa possono essere allertate diverse ore prima del disastro. Allo stesso tempo, le zone costiere vicine all'epicentro del terremoto che ha causato lo tsunami potrebbero essere allagate in pochi minuti. I responsabili delle emergenze costiere devono prendere decisioni critiche in materia di evacuazione in pochi secondi. L'evacuazione stessa può richiedere tre o quattro ore, il che significa che i paesi che potrebbero essere esposti a rischi necessitano di un piano B per ridurre il rischio di disastri. L'ufficio australiano di meteorologia, ad esempio, ha simulato quasi 2000 tsunami per creare una serie di scenari preconfezionati che descrivono il probabile impatto degli tsunami causati da terremoti di varia magnitudo e posizione. Ma anche con le migliori strategie, la natura può essere imprevedibile e sorprenderci. Ad esempio, nel 2011 nella città giapponese di Sendai circa 100 centri di evacuazione per lo tsunami sono stati danneggiati da un'enorme ondata e non hanno potuto svolgere la loro funzione. Nel momento in cui l'onda si avvicina, è estremamente difficile salvarsi, quindi, dovresti pensare a come prepararti in anticipo per un possibile tsunami. In Giappone, ad esempio, sono già state costruite dighe per proteggere dagli tsunami alcune città costiere. E ai bambini viene insegnato fin dalla tenera età a notare come trema la terra e come reagire in caso di catastrofe. Inoltre, il Giappone ha completamente cambiato la sua opinione su come dovrebbero essere costruiti gli edifici. Poiché il cemento è molto fragile e si distrugge facilmente, i giapponesi ora stanno realizzando qualcosa di simile a strutture in cemento plastico. I cerchi d'acciaio sono posizionati all'interno delle colonne e delle pareti, questo e molti altri trucchi aiuteranno a resistere un po' più facilmente ai terremoti e agli tsunami. Cosa puoi dire della Turchia? Come si è scoperto, la causa principale di molte morti non è stata nemmeno una catastrofe naturale, ma case costruite in modo inaffidabile. Ad esempio, le città di Nurdagi ed Erzin, situate nel sud-est della Turchia, non sono lontane l'una dall'altra ed entrambe si trovavano vicino all'epicentro del terremoto. Solo Nurdagi è stato completamente distrutto e ora deve essere ricostruito. E a Erzin non è stato distrutto un solo edificio e nessuna persona è rimasta ferita. Come si è scoperto, il sindaco della città, Okesel Masoglu, semplicemente non ha consentito la costruzione illegale in città. Pertanto, tutte le case a Erzin rispettano pienamente gli standard di sicurezza. Ma cosa fare con il resto della Turchia? Dopotutto, se non fosse preparato ai terremoti, anche il più piccolo tsunami potrebbe avere conseguenze ancora più catastrofiche per lo stato. In effetti, ci sono molte soluzioni al problema e anche tu puoi aiutare il tuo paese a prepararsi per un disastro naturale. E per questo devi solo accendere la PlayStation. I subordinati dei ministri della sicurezza di vari paesi e i loro team spendono molti soldi per lo sviluppo della protezione contro lo tsunami, i suoi test e la sua implementazione. Ma allo stesso tempo, assolutamente tutti possono già testare varie opzioni per migliorare l'infrastruttura nel simulatore di pianificazione urbana degli skyline delle città. È stato creato dallo studio finlandese di sviluppatori di giochi per computer colossale Ordar. Il compito principale del giocatore è costruire la propria città, che soddisfi tutte le norme di ecologia e sicurezza. Per fare ciò è necessario pianificare le zone edificabili, la sistemazione delle strade e anche l'organizzazione del lavoro dei servizi urbani e dei trasporti pubblici. Ma la cosa più interessante è che nell'applicazione sui disastri naturali puoi verificare come la tua città progettata resisterà a un terremoto e uno tsunami. Da quando il simulatore è stato rilasciato nel 2015, i giocatori hanno già avuto il tempo di testare vari strumenti di sicurezza e scegliere i metodi più efficaci. Uno di questi è stata la costruzione di muri antialluvione nelle zone costiere. I giocatori hanno lanciato un devastante tsunami senza tali strutture, e poi con loro, e ovviamente nel secondo caso le conseguenze del disastro naturale non sono state così catastrofiche. Le mura trattengono l'acqua e ne impediscono parzialmente la penetrazione nel territorio. Quindi i giocatori hanno aggiunto altri tre canali scavati, una combinazione del genere ha funzionato perfettamente. L'acqua non ha raggiunto la città. Le autorità giapponesi hanno preso in considerazione strutture simili all'interno del sistema di protezione dallo tsunami chiamato linea arancione, ma tali strutture costerebbero miliardi di dollari e richiederebbero un'attenta pianificazione e costruzione. Pertanto, solo le città virtuali potranno essere salvate dai muri antialluvione. Inoltre, il sistema di pareti e canali del simulatore richiedeva molto spazio, che è stato liberato rimuovendo l'autostrada. Nel mondo reale, non sarebbe possibile farlo. Inoltre, le zone costiere delle città sono i luoghi più popolari per il turismo e le attività ricreative, ed è improbabile che il governo permetta che vengano recintate con tali costruzioni. E questo non è l'unico piano di salvataggio ideale ma non realizzato. Un altro è stato trovato del tutto accidentalmente in India, durante lo tsunami nell'oceano indiano nel 2004, è stato possibile trovare qualcosa che ha rallentato leggermente l'onda. E queste erano paludi di mangrovie. Questo è un intero ecosistema sotto forma di grandi piante che crescono direttamente nei corpi d'acqua salata. Le radici degli alberi non sono nel terreno, ma sott'acqua. Questi boschetti proteggono inoltre la costa dall'erosione, contribuiscono alla purificazione dell'acqua e del suolo e contribuiscono anche alla conservazione della biodiversità. Ma la cosa più importante è che durante lo tsunami in India le onde hanno avuto più difficoltà ad avanzare nella parte dove c'erano paludi di mangrovie. Che dire delle spiagge aperte che hanno sofferto di più. Se i governi dei paesi bagnati dagli oceani non dicessero loro di piantare densamente le acque costiere con queste piante, durante lo tsunami l'altezza della marea sarebbe inferiore di circa due terzi. Ma ancora una volta, il problema è che ogni spiaggia è una potenziale spiaggia che attirerà i turisti. E come prenderanno il sole e nuoteranno nella palude? Quindi per ora potresti non preoccuparti della tua vacanza in riva all'oceano, ma non si sa cosa potrebbe rivelarsi per te. Si scopre che nemmeno in Giappone esistono misure efficaci al 100% per proteggersi dallo tsunami. Ma cosa fare se ci si trova in una zona pericolosa? Conta solo su te stesso. In poche parole, dovresti preparare una valigia allarmante, fare attenzione e attendere un messaggio dalle autorità. A meno che, ovviamente, non raccogli le tue forze per garantire un'adeguata protezione del paese dallo tsunami. E quale progetto ti impegneresti a difendere davanti alle autorità? Scrivete nei commenti.